Aveva fatto razzia di quadri, lampadari e vasi all'interno dell'ex ristorante Il Torrino, ma è stato sorpreso dai poliziotti ed è così finito in manette un 73enne a Aretino. È successo la scorsa domenica pomeriggio quando gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo sono intervenuti dopo la segnalazione di un'auto sospetta che sostava nei pressi dell'ex ristorante alle porte di Arezzo. Allora arrivo i poliziotti hanno trovato il 73enne con precedenti penali specifici ancora intento a rovistare nel locale. L'uomo inoltre aveva già caricato nella propria auto parte della refurtiva, quadri, lampadari, lanterne e vasi. Il 73enne, di fronte all'evidenza dei fatti, ha cercato di difendersi affermando di aver trovato gli oggetti abbandonati davanti al prato dell'ex ristorante, ma a smentirlo è stato il titolare dell'immobile che invece ha confermato che la refurtiva si trovava all'interno del locale. Inoltre gli agenti delle volanti hanno riscontrato la forzatura di una porta di emergenza usata dal ladro per introdursi all'interno della struttura. Il 73enne è stato così arrestato per furto aggravato. Il giudice, considerata e valutata l'età anagrafica, ha disposto alla rimessione di libertà del soggetto in attesa della fissazione dell'udienza di convalida.